la comunità oggi è in festa, ho avuto l'onore di conferirti a nome del consiglio comunale, è la prima cittadinanza onoraria della nostra città di caselle, quindi benvenuto come cittadino onorario, cittadino già ormai da un quarto di secolo, oggi lo rendiamo anche pubblico e ufficiale. Grazie veramente di cuore di tutto e augurone per tutti quelli che hanno partecipato oggi, che hanno dimostrato un senso profondissimo di amicizia travolgente. Grazie Don Giovanni e sicuramente la collaborazione continuerà ancora per tanti anni. Grazie ancora e congratulazioni. Ho voluto essere presente a questa cittadinanza onoraria che è stata consegnata all'amico professor Don Giovanni che ci conosciamo da 40 anni e più, perché prima di venire a caselle veniva già a aiutare il parroco di Volpiano, Don Mario Infosso, e ha conosciuto Don Claudio che poi è diventato parroco a caselle. È una persona squisitissima, molto attiva, molto vicina, ma soprattutto è un fraterno amico. Di questo è proprio un'onorificenza che ci fa piacere a tutti noi amici che era stata riconosciuta dalla città di caselle, perché se la merita sotto l'aspetto umano, sotto tutti gli aspetti. Complimenti Don Giovanni. Grazie. 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 Grazie.